Nell'ultimo periodo molti di noi si staranno chiedendo Ma un Guardiano della Galassia 4 uscirà mai? Perché noi grandi fan abbiamo accolto molto calorosamente il terzo capitolo di questa trilogia fantastica e quindi ci siamo posti questa domanda ed oggi ne parleremo insieme Io sono Captain Nerd e bentornati su Chuck e Azione E quindi siamo giunti proprio a questo punto Il nostro James Gunn se n'è andato Uno dei migliori registi del Marvel Cinematic Universe ci ha lasciato Ovviamente non lasciato in quel senso Comunque andrà un po' a far tornare il vigore anche alla controparte da DC Comics Sperando che porti in alto il nome di Superman Ruolo che era stato lasciato a Zack Snyder e poi sapevo tutti com'è finita Anche se questo nuovo The Flash sembra arrivare con grandi aspettative Chi lo sa Comunque torniamo a noi Il nostro James Gunn se n'è andato E i nostri guardiani della galassia sono arrivati ad una loro conclusione Ad un loro addio Ma non è proprio un addio Perché come abbiamo visto nel finale del terzo capitolo Se non l'avete visto vi farò dello spoiler Quindi occhio I nostri guardiani si sono divisi e ogni trama legata a quel personaggio si è conclusa In un modo stupendo perché c'è un finale del genere Da tutti è stata reputata la trilogia migliore del MCU Un motivo ci sarà Tuttavia nella post credit vediamo che comunque si formano dei nuovi guardiani Alcuni sono i soliti Altri sono delle aggiunte Che comunque alcuni dei guardiani principali si sono un po' slegati Ovvero Gamora è andata con i Ravages Quill è tornato dai suoi parenti sulla terra Insomma abbiamo avuto degli addi Però comunque alcuni sono rimasti Il nostro Drax ha deciso che non è più un distruttore Ma sa far bene solo il padre Bellissimo Il suo filone è stata una cosa fantastica Come anche quello di Rocket E Groot Non mi fraintendete È stato perfetto Perfetto La Marvel rimpiangerà un regista del genere In ogni caso abbiamo visto che comunque un continuo ci potrà essere E quindi tutti ci siamo chiesti Ma il quarto capitolo ci sarà? E sono andati subito James Gunn a chiedere E il regista ha risposto con un molto deciso no E la sua risposta sicuramente è legata al fatto che Qualsiasi cosa potremmo vedere dopo Guardiani della Galassia 3 Non sarà frutto del suo genio Quindi non sarà un vero e proprio continuo Comunque se non è uscito alla sua mente È tutto ciò che non fa parte del suo modo di pensare E quindi non è un Guardiani della Galassia È una cosa impressionante È come uno chef che si vuole tenere la sua ricetta segreta Quindi però fa molto piacere Perché vuol dire che comunque era molto affezionato ai personaggi Alla storia e a tutto l'universo che ha creato nella Galassia Perché comunque si parla sempre di viaggi spaziali in questa trilogia Mettendoci anche un po' di ironia E tanta tanta passione per quanto riguarda i dialoghi e le vicende tra i personaggi Una cosa che non vedremo in tanti altri film In ogni caso James Gunn a parte Sappiamo che nel Marvel Cinematic Universe Per quanto riguarda i film che si potranno o non si potranno fare C'è il detto mai dire mai Che comunque anche il discorso di Capitan America Che riporta le gemme nelle varie linee temporali Hanno detto che probabilmente verrà prima o poi fatto Quindi chi lo sa Sicuramente i nostri Guardiani torneranno sul grande schermo Perché comunque i successori dei Guardiani Ovvero quelli che abbiamo visto nella post-credit Le post-credit in particolare servono comunque a collegarsi con altri film Quindi sicuramente li rivedremo Sperando che non andranno a rovinare ciò che aveva costruito il nostro James in passato Quindi ragazzi che dire Non ci resta che aspettare e vedere cosa Marvel ha in servo per noi Io vi ringrazio molto per aver seguito questo video Spero che sia stato di vostro interesse Spero che lo abbiate apprezzato Seguiteci sui social Iscrivetevi al canale Cliccando anche sulla campanella Che è sempre una cosa importantissima E da Capitan Nerd qui oggi è tutto E noi ci rivedremo presto a un prossimo video Ciao a tutti ragazzi